Gentili telespettatori, buona giornata. Meloni sta cercando un nuovo lavoro. Quale sarebbe la mossa della Premier? Ha un piano B dopo Palazzo Chigi? Perché si iscrive su LinkedIn, che è un social dedicato al mercato del lavoro, dove uno mette su il curriculum, dove uno mette su le sue esperienze di lavoro e serve per, principalmente servirebbe per cercare lavoro. Anch'io mi ero iscritto su questo LinkedIn quando parecchi anni fa cercavo lavoro, ma sinceramente non mi è mai servito, insomma. Poi questo LinkedIn si è un po' trasformato e è diventato una specie di social, però è una cosa principalmente per lavoro. Sono passati sette mesi dal governo Meloni e il Presidente del Consiglio si è iscritta in questo social per cercare lavoro. E così molti scrivono, ma ha la volontà di cambiare lavoro? Perché sbarca su LinkedIn? È una piattaforma utilizzata dai professionisti per diffondere contenuti relativi al mercato del lavoro. Chi sta lì di solito sono quelli che cercano per le aziende persone che stanno cambiando lavoro, quindi lavoratori a caccia di un impiego che utilizzano il social per mettersi in mostra. Ma Meloni non sarebbe alla ricerca di un nuovo lavoro o di un piano B nel caso in cui fallisse il mandato a Palazzo Chigi. Ma è andata su questo social dove c'è una fitta presenza del suo gruppo, del suo partito. Visitando il profilo di Giorgia Meloni su LinkedIn, infatti si può leggere oltre alla carica di Premier che da nove anni è Presidente dei Fratelli d'Italia, da quasi tre del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, da 17 anni addirittura deputato. Ma anche esperienze del passato come i tre anni da Presidente dei Gioveni Italia e il passato come Ministro della Gioventù, mentre il lavoro più vecchio è quello dal 1998 al 2022 come consigliere provinciale a Roma. Poi su questo profilo sono condivise pubblicazioni e aggiornamenti sul lavoro di Giorgia Meloni come la recente commemorazione per Capaci, la visita in Emilia Romagna. Quindi diventano aggiornamenti sul lavoro nel senso che se su questo social tu racconti del tuo lavoro, dici oggi sono Presidente del Consiglio, oggi come lavoro sono andata a Capaci, sono andata poi in Emilia Romagna, quindi diventa un aggiornamento per il suo lavoro, ma non è che lei fa l'aggiornamento così, è un modo per fare propaganda, è un modo per... oggi la propaganda passa sui social, su quante persone hai che ti seguono, ma ci sono altri politici su questo LinkedIn? Bene, infatti al momento sono però pochi, guardando al Parlamento infatti 207 su 606 sono presenti, insomma non mi sembrano pochi comunque 207 parlamentari su 606, meno della metà del totale. Secondo un'indagine realizzata da i Corporate sull'attuale legislatura, essere presenti sul social network sono 191 deputati su 404, ovvero come il 14%, sbagliato, il 191 su 404 non è il 14%, è quasi il 50%, e poi 79 senatori su 206, il 38%, questo dato è giusto. Tra i partiti presenti è Fratelli d'Italia ad avere il numero più alto di deputati e senatori presenti, ovvero 83, poi c'è il Movimento 5 Stelle con 43 e la Lega con 42, ma nonostante Fratelli d'Italia sia il gruppo più numeroso sul social media, quattro dei dieci parlamentari più seguiti sono del Partito Democratico. In testa c'è l'ex segretario dem Enrico Letta, forte di 87.000 follower su LinkedIn, seguito dall'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, 5 Stelle, e poi il dimissionario Carlo Cottarelli. Ma dall'analisi emerge come solo 78 parlamentari utilizzano questo social in maniera continuativa, ovvero 55 deputati e 23 senatori. I più attivi sono Antonio De Poli di Noi Moderati con 574 post all'attivo addirittura, Erika Mazzetti di Forza Italia con 293 post e Luigi Marattin di Azione Italia Viva con 218 post. L'hanno preso come se fosse Twitter o Instagram. Oltre a Meloni c'è anche Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Emma Bonino ed Ellis Line sono presenti sul social. Mentre Meloni e Conti sono però attivi, gli altri citati sono presenti ma in maniera passiva, cioè non come me. Io ho questo profilo ma sinceramente non mi ricordo neanche le password per entrare, non so neanche come funziona, che cosa puoi fare o non fare. Davvero l'avevo aperto e poi come tutte le cose è rimasto è rimasto lì così. Così abbiamo scoperto che Giorgia Meloni non sta cercando lavoro, un piano B nel caso le cose dovessero andare male. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buona giornata. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. Chi fa da sé fa per tre. E poi trovate anche questi video condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Lì trovate questi video, se volete condividerli lo potete fare assolutamente, anzi fate un favore anche al canale. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.